ciao ora vediamo un esercizio che io chiamo sfinge si fa da distesi la partenza è così poi dovete alzarvi sui gomiti e rimanere così qualche istante in una posizione di decompressione della zona lombare in particolare dei dischi e indicati in alcune situazioni di lombaggia meccanica una variante potrà essere fatta anche con un cuscino sotto la pancia per aumentare la decompressione sempre partendo da giù sollevarsi e rimanere un po sui gomiti e rilassare la muscolatura lombare